Oggi ti svelo un segreto che nessuno te lo dirà mai. Lo sapevi che puoi fare benzina quante volte vuoi gratis? Ora ti faccio vedere come. Intanto per aprire il sportellino ti serve un pugno così e si apre. Ora con un altro trucco ti faccio vedere come fare benzina gratis. Com'è semplice farlo. Apriamo il tapo intanto. Ti basta alzare queste qua così. Una, due, tre. Guarda adesso come si attiva. Vedete? Si è appena attivato. Guarda. Potete farlo quante volte volete. Quindi ti basterà seguire la procedura come avete visto nel video. E potete farlo tutte le volte che volete. Che funziona sempre. E' proprio fatto quando rimani, che ne so, a fine mese magari non ti basta il stipendio per poter rimanere senza benzina. Allora hanno previsto i petroglieri di tutto il mondo. Hanno visto questa funzione proprio per aiutarti a non rimanere a piedi con la tua autovettura. E quindi grazie a questo semplice trucco tu non rimarrai mai a piedi. Quindi puoi usarlo in qualsiasi circostanza, in autostrada, dappertutto. Ovunque c'è un distributore di benzina tu puoi fare benzina gratis per sempre. Però io ti consiglio, se i soldi ce li hai, è meglio che paghi. Se no è solo in caso di emergenza, che sei senza soldi, allora cosa puoi fare? O vai a piedi o fai questa procedura semplice e così sei a posto. Grazie a questo semplice trucco che ti ho appena svegliato, ora si che ti puoi vantare con i tuoi amici carburatisti, che ne serve una più di loro.